Alleluia, l'Udè il Signore in del suo santuario, l'Udè il firmamento della sua potenza, l'Udè il presso prodigio, l'Udè il per la sua immensa grandezza. La voce ferma ma emozionata è stata una domenica che non dimenticherà mai il piacentino Luigi Zuccheri, il 78enne pensionato di Alseno, ricevuto ieri in udienza privata da Papa Francesco in Vaticano e poi addirittura citato all'Angelus dalla finestra che affaccia su Piazza San Pietro. Il pontefice è infatti rimasto molto colpito dal lavoro del fedele piacentino che ha tradotto la Bibbia trascritta a mano in dialetto piacentino e che ha consegnato nelle mani del Santo Padre il suo manoscritto. Questa mattina ho ricevuto un piccolo gruppo di fedeli che mi hanno portato la traduzione della Bibbia tutta e intera nel loro dialetto. E l'ha fatto un uomo, otto anni di lavoro, scritta, sono otto volumi, tutto in dialetto. E lui che era presente mi diceva che leggeva, pregava e traduceva. Io vorrei ringraziare questo gesto e anche un'altra volta dirvi di leggere la Bibbia. Le spese per la stampa del manoscritto sono state sostenute dall'imprenditore Gianfranco Curti, presidente e fondatore del gruppo Galseis. Zuccheri racconta così questa esperienza straordinaria. Mi sono sentito completamente a mio agio. Il Papa era proprio come se l'avessi visto come un amico proprio. Quando è entrato avevo, come tutti gli altri, la mascherina. E mi ha detto, si tolga la mascherina così mi sembra un brigante. E io gli ho risposto, santità, anche senza mascherina, sono un po' un brigante. E quindi gli ho fatto un sorriso. E poi, quando le ho letto il Salmo, l'ho letto in modo che non avevo mai letto in vita mia così bene.